quindi questo è il mezzo nuovo ciao a tutti oggi in spedizione verso san martino di castrozza per automoto.it e mao ma non sarò da solo perché con me sarà la mia stupenda metà cosa faremo partiremo con l'unica differenza che andremo su con una macchina esatto da quanto ci raccontano la vastità delle colonnine tra premiero e san martino di castrozza quindi una zona veramente green e adatta all'uso di questo tipo di auto mentre andremo la dovremmo imparare un po alle ricariche le cose perché io non ho mai provato ci sarà da ridere perché sarà lunga e io non ho il piede da fatina quindi no scherzo assolutamente sempre nei limiti 130 però bisogna andare mi dicono un pelo più lenti per gestire la ricarica quando arriveremo lì ci saranno un bel po di ci aspetteranno delle attività sempre green e bike faremo dei bellissimi giri qui la sfida sarà tra sportivi e non sportivi vediamo come se lo giocheremo e come andrà alla fine pigia quel pulsante detto quale come quale trovato un secondo fa quindi andiamo a fare doccina ci siamo consoni per la montagna e quindi siamo pronti per questa 80 km di autonomia ci avevano narrato a inizio viaggio che devono essere 270 però per famiglie con bambini per noi che è un pochino più di gas non basta no no vedi che avevo ragione però forse non doveva rimanermi in mano questo no no è rotto è rotto queste sono le colonnine per ricaricare la nostra macchinina elettrica questa è la macchina bella commento a caldo? bello l'elettrico eh silenzioso 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 nel frattempo la situazione è questa ecco arriveremo dove dobbiamo arrivare dimmi la strategia per le prossime soste per favore visto che a questo punto siamo arrivati a 80 km di autonomia per fare la prossima ricarica di non arrivare al limitatore di arrivare perlomeno ai 150 così ci mettiamo bene a ricaricare ma se ci mancano 200 km stiamo facendo la ricarica piena cosa cazzo dobbiamo rifermarci cerchiamo di arrivare in fondo non ci arriviamo in fondo invece in fondo ci arriviamo ti avevano detto che proprio Natale esisteva mi avevo detto che tu eri incinta neanche la cicogna esiste capito? quindi è inutile che ti basi su quello che ti dicono infatti perché mi avevano detto che c'era una svergola così invece non è vero mancavano 13 km e io volevo rischiarla e adesso da tempo di ricarica 6 ore e 20 cretino senti che aroma di faggio bellissima wow che bello questo è tutto a letto eh non male oh per noi che bellino vediamo che cos'è spero siano dei salumi delle cose buone buone lo spero sempre essere ah per la tua gioia sportività movimento corsa questo per te va benissimo ferma cosa dicono le regole dell'hotelleria? se non c'hai il topper non sei nessuno non c'è il top non c'è il top bene dalla nostra camera per ora è quanto ci vedremo dopo il timebike di Steffi domani che non mi trovo di vederti sai buongiorno oggi ci aspetterà la prima giornata tutta di ebike dove andremo su una funivia su un ponte sospeso questo è il bellissimo panorama del mattino qua c'è un altro panorama meno bello tutti i propri posti la sedi è attaccata al palo non mi sento più devi fare deglutire deglutisce giusto per farvi capire a che altezza siamo e dove siamo è un posto che per chi soffre un attimo di vertigini non è proprio il massimo però per chi invece apprezza tutto bene un pelino iniziamo benissimo mi sono indicato di accenderla Luca si è scordato di accendere l'unica cosa che c'è sotto il culo ciao Luca la cosa più bella di oggi sarà andare verso le persone che ci rinficioglieranno a parafoco io voglio solo mangiare non ci capisco un cazzo con le bici ma la mia non va non è che non va devi mettere i rapporti lunghi eh ho fatto un casino fermati adesso parti e gli butti dentro da queste boom 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 no lui ho pigiato sto coso e va puoi andare al favore pigia quel pulsante che ti ho detto quale? come quale? te l'ho detto un secondo fa questo vai ancora daglielo ma non lo vedo ma cristo di ogni è dietro questo è qua ma quel cazzo mamma mia prima posizione Stefani si è penuto fa passare chiude le porte letto attenzione contro la mano un sacco di gente venga l'attacco mamma mia che si rifa sotto e si rimonta dentro mamma mia mi dai un tuo resoconto su questa giornata di bicicletta e sportiva ragazzi chiedo scusa se sembro Maria Teresa di Calcutta cioè noi ci avevamo detto di fare una giuratina in bici per fare vedere queste bici elettriche io contentissimo mi sono allenato cioè da dio proprio andavo in modalità eco senza aiuti tanta roba cosa che non è stata apprezzata niente sono rimasta un po' alibita da quello che abbiamo fatto perché e da quello che tu sei riuscita a fare Stefani insieme cosa che tu non pensavi non pensavi di riuscire a farlo e ce l'hai fatta io a un certo punto stavo veramente per abbandonarmi io in quel bosco ho perso l'anima stiamo partendo in orario che tu mi hai detto partiamo da dieci e mezzo al massimo hai due zero sette ma sai che con l'M2 CS il navigatore ha sempre torto insomma dovremmo trarre questi 40 minuti che abbiamo di ritardo oggi corsi in quel di Cervesina con i miei allievi come ben vedete adesso siamo ultra sponsorizzati da bmp difatti il box salvadori è power by bmp tappi quindi se volete venire mi raccomando le ultime date saranno settembre ottobre scrivete al mitico pedersoli o a info-pedersoli.it ma oltretutto oggi c'è qui di fianco esattamente di fianco a me una persona che è qui per provare la sua nuova moto adesso è dentro con pedersoli per fare due giretti per capire un po' la situazione però poi avrò forse l'onore di provarla anch'io e cercare di capire come va perché come ben sapete quando ero anche in BMW provavo la concorrenza e anche adesso che sono in Ducati è giusto provare la concorrenza tra pochissimo vi faccio vedere tutto guarda una moto seria va quindi questo è il mezzo nuovo attenzione attenzione cioè indovina chi è un outsider? quello che non c'entra un cazzo con l'ambiente chi è? quello che dico sempre è una roba quando inizia una nuova avventura anche con la Ducati eccetera eccetera si può dire una cosa anche in questo caso se non saremo veloci saremo comunque belli guarda che bello il logo il numero il numero si il logo devo stare qui se mi ha fatto un ragazzo bravissimo si e quindi niente oggi stiamo facendo questo passaggio traumatico dal 600 a 10 l'unica volta che ho guidato un mila eravamo insieme dove ero molto scarso e adesso non sono più scarso sono scarsissimo no non è vero dai comunque questa è una brutta malattia dopo che 8 mesi fa siamo venuti esattamente qui con Emi a fare un girettino per provare basta gli è partita è la fine moto nuova a carico a pallettoni mamma mia guardatelo mamma mia peder staccatoni a tre signori ci prova all'esterno no all'esterno no oddio mi chiude la porta in faccia ma non molla all'interno serva no 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 eccolo oddio mi chiude la porta in faccia ma anche Emi ormai distrattato da tutti oddio 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 motocross signori pensavo fossero più bassi Emi non è male comunque eh mi ho tornato un'altra volta dai come prima motorettina direi che non è male da Cervesina è assolutamente tutto io sono distrutto che questa giornatina proprio leggera leggera è finita e anche oggi Vita Demolizioni ha fatturato non io ho fatturato ci sta l'Eau Rouge Radione è un po' ostica con queste macchinette che quando sali su si alleggeriscono partono dietro un nostro migli squadra ha toccato ha stortato un pochino l'anteriore iniziamo bene ma sapete qual è stata la cosa più bella di tutte? questa da in calza vai in calza Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti